Non sto parlando per me adesso, ma se ti accade qualcosa che ne sarà di questa gente, a loro cosa arresterà? Loro stessi. Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cosa è cambiato? Loro sono cambiati, ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me. Devono essere guidati. Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.